bella gente un video velocissimo con una notizia fresca ok cerchiamo con duck duck go prima riga secondo voi cosa succede se clicco qua questa è la dimostrazione pratica che chiunque può fare che google duck duck go o quant'altro non sono dei motori di ricerca ma sono dei file di testo che non sono ancora stati aggiornati che cazzo ha trovato proviamo su google oh vicino a lubiana sono no però i risultati veri sono qua ecco google ha già aggiornato per esempio si trova nelle altre parti e non su non su non si trova più ecco google ha già aggiornato duck duck go non ha ancora aggiornato però per dire se lo facevo ieri sera probabilmente neanche google non aveva aggiornato va bene bella gente molti 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 saluti